La sorveglianza aerea territoriale, organizzazione di volontariato per la valorizzazione e l'impiego aeronautico delle comunità e del territorio. Chi siamo? Ci chiamiamo anche brevemente SAT. Siamo nati a Torino nel 2011. Siamo stati riconosciuti organizzazioni di volontariato di protezione civile dal 2013. Siamo inquadrati nell'organico e nella colonna mobile della protezione civile della regione Piemonte. Stiamo organizzando nuove sezioni in altre regioni. Dove siamo? La sede amministrativa della sorveglianza aerea territoriale è a Rivoli. Il nucleo direttivo è inquadrato nel Comrivoli e a sua volta nel coordinamento provinciale della protezione civile di Torino. Le sedie operative sono presso vari campi volo, aviosuperfici ed aeroporto. L'attività destrativa è svolta in Piemonte e in Liguria. Cosa facciamo? Tramite un nostro disciplinare tecnico ed etico ed in osservanza delle normative in vigore, svolgiamo attività di volo, supporto logistico aeronautico a terra, sensibilizzazione verso la cultura aeronautica e il volontariato. Quando operiamo? Il nostro intervento avviene se attivati dalla protezione civile per esercitazioni, prevenzione e controllo, calamità, oppure tramite la stipula di convenzioni. Come operiamo? La nostra operatività si riassume in addestramento, esercitazioni, interventi. Le figure della SAT. I nostri volontari sono divisi in piloti, piloti S.A.P.R., tecnici di bordo e tecnici di terra. Ci si può anche associare come aggregati e sostenitori. Il pilota. Il pilota conduce velivoli nelle missioni, pianifica il volo in ogni sua fase, e è responsabile dell'intero equipaggio durante la missione e si coordina accoglienti del traffico aereo. Il pilota S.A.P.R., sistemi aeronautici a pilotaggio remoto, conduce droni nelle missioni, pianifica la missione in ogni sua fase, supervisiona la concessione delle eventuali autorizzazioni operative. Il tecnico di bordo. Svolge con il pilota le attività specifiche di ogni missione, sorveglianza, foto, video o altro. Mantiene il coordinamento terra-bordo-terra con le altri componenti coinvolte nella missione. Realizza il rapporto e la documentazione di ogni missione al termine. Il tecnico di terra. Delimita e controlla decolli ed atterraggi, punti di sorvolo, aree di ricovero di velivoli e mezzi. Gestisce e controlla le attrezzature. Collabora alle manutenzioni di velivoli, mezzi e attrezzature. Prepara il materiale per le missioni. L'aggregato. È il minorenne appassionato di volo che si affianca ai volontari per imparare come poter operare. Partecipa a esercitazioni e addestramenti come studente e osservatore. Ma, visto la sua minore età, non può essere impiegato in operazioni attive. Il sostenitore. È l'appassionato di volo che si affianca ai volontari senza partecipare ad operazioni. Supporta l'attività della SAT e ne promuove l'immagine e gli scopi sociali. Perché associarsi alla sorveglianza aerea territoriale? Si entra a far parte del volontariato e si diventa operatore in protezione civile. Inoltre si partecipa ad attività in un settore di grande fascino e tecnologia qual è quello aeronautico. Si imparano mansioni specifiche per il volo e la tutela del territorio. Come poter diventare uno di noi? In sorveglianza aerea territoriale cerchiamo sempre nuovi volontari. Per entrare nella sorveglianza aerea territoriale è necessario presentare la domanda di associazione, partecipare al corso formazione volontari che qualifica per l'attività operativa. Non è necessario essere pilota o esperto di aviazione per diventare un volontario della SAT. Per seguirci potete seguirci sul web all'indirizzo www.satvolo.it su facebook all'indirizzo www.facebook.com.sat.volo o su twitter all'account chiocciola satvolo Per contattarci potete contattarci via email all'indirizzo info chiocciola satvolo.it oppure via telefono al numero 366 167 41 8c www.facebook.com.satvolo